atp della valgardena dobbiamo presentare un nuovo ruolo che interessa ai giocatori responsabile del player desk chi meglio di un giocatore può presentarla perciò lasciamo l'intervista a claudio grassi siamo qui con una figura diciamo nuovo ormai affermata penso da tutto l'anno in questo 2014 divise venti legna che diciamo ci accompagna quasi tutte le settimane qui in italia in questi tornei challenger è un ruolo penso nuovo anche per te che è cresciuto piano piano penso con la passione per questo sport e aiutaci insomma a capire quello che svolgi durante la settimana un'altra settimana come ben sai insieme tutti i giocatori io mi occupo del player's desk il player's desk è il luogo dove tutti i giocatori durante il torneo si rivolgono per prenotare i campi per organizzare le varie laundry per le transportation per hotel per qualsiasi cosa hanno bisogno fuori casa diciamo un punto di riferimento in ogni torneo penso che la chiave della mia figura la quale ha avuto molto successo fortunatamente quest'anno aggiungere successo in aspettato è il fatto che essendo sempre la stessa i giocatori hanno un punto di riferimento fisso e girando tanto 300 giorni l'anno più o meno penso sia molto importante poter contare sempre su una persona esatto come detto ormai penso che cada giocatore ormai quando ha bisogno di campi qualsiasi cosa fisioterapista ormai la prima persona a cui si rivolge sei te perché per male sei riuscita ad entrare con un buon feeling con tutti noi con diciamo le stesse ugualianze magari con qualcuno vai più d'accordo però riesci con facilità diciamo aiutare a districarti bene da ogni situazione questo è un punto a tuo favore ma anche noi ci aiuta diciamo a scartare tutti i problemi che magari possono sorgere ogni settimana non conoscendo bene ogni torneo quindi io a nome i giocatori ringrazio qui edvige che ci sopporta ogni settimana e ci aiuta in ogni nostra problematica no io ringrazio voi non si tratta di sopportare lo faccio volentieri perché so benissimo tutti i sacrifici che affrontate i trasferti lontananza dalla famiglia costi perché i costi sono notevoli che affrontate e potervi aiutare in qualsiasi modo a me fa solo che piacere che sono molto ramena e legata a voi mi fa solo che piacere condividere il tempo sia in campo che fuori dal campo con voi bene allora un saluto qui da ortisei un saluto ortisei e alla prossima ciao